L'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità è la base del mio lavoro. Nel mio team ci occupiamo di analizzare tutte le potenzialità dell'idrogeno dall'origine all'utilizzo, relazionandoci con tutti i partner coinvolti lungo la varice. A livello generale però significa prendere parte alla costruzione di infrastrutture e soluzioni che cambino il futuro, anzi che rappresentino esse stesse il futuro. L'idrogeno è infatti un potenziale incredibile e sta assumendo un ruolo chiave nel garantire il raggiungimento degli obiettivi europei e globali di decarbonizzazione.